Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi sabato 25 maggio 2024, il Corriere della Sera, casa sanabili, minimi abusi, varate le nuove norme sulle irregolarità, il Consiglio dei Ministri approva la legge sui conti del calcio, Meloni premierato o la va o la spacca, vuol dire o passa il premierato o vado a capire. A casa, duello a distanza con Schlein e intanto sfida Stati Uniti e Europa su Dazia e la Cina, Gentiloni avvisa, serve unione, la Corte internazionale dell'ONU, Rafa, Israele, si fermi. E poi vediamo Benetton, addio e accuse, io tradito il caso, lascia il fondatore Luciano, buco nascosto dei manager. Totti a IPM Spinelli mi finanzia dal 2015 e a Genova Salvini difende il governatore della Liguria. Passiamo alla Repubblica che titola Totti, Schlein attacca Meloni il silenzio degli indecenti, quindi la Schlein offende la Meloni dicendo che è un indecente perché fa silenzio sul caso Totti. Botta e risposta tra la segretaria PD e la premier su riforme e redditometro il governatore Ligure e le amnesie davanti ai Spinelli ci pagava dal 2015. L'Aia a Israele, c'è stata subito la guerra a Rafa. E adesso andiamo a vedere il sole 24 ore che titola Meloni il premierato o la va o la spacca Schlein, così indebolisce il Quirinale. Ma voi sapete che in realtà non esiste una riforma del premierato perché il premierato, quello vero, significa prendere tutti i poteri del capo dello Stato e passarli al premier. Questo non è un premierato, non è un presidenzialismo, è l'elezione del capo del governo da parte dei cittadini con qualche piccola modifica ai poteri del capo dello Stato che queste modifiche diventano inevitabili. Però si parla di premierato in maniera assolutamente impropria perché non esiste una riforma in senso vero del premierato. Andiamo adesso a vedere piano casa, arriva l'ok verso lo sblocco per 4 milioni di pratiche. Andiamo a vedere adesso la stampa che titola Rafa, l'hai accusa Israele, i giudici della Corte Internazionale, dalle bombe rischio annientamento, ma Netanyahu non si ferma. A Gaza ritrovati altri tre corpi di ostaggi rapiti, Hamas, Gerusalemme, ordina nuovi raid nella striscia. E adesso andiamo a vedere Fazio, io e Mike, Zero, io e il Papa e passiamo a questo punto a vedere il resto del Carlino. Via Libera alla sanatoria sulla casa, il governo vare il decreto, si potranno regolarizzare piccole difformità edilizie, soppalchi, tende da sole, muri interni e volumetria. Il vice premier Salvini esulta una rivoluzione liberale, risolve problemi decennali per l'opposizione legambiente e un condono in salsa elettorale. E poi vediamo, cento anni fa nasceva, buongiorno, il figlio Nicolò Baudo, un amico, vi racconto mio padre, Mike. L'ira del PD sull'alluvione, presi in giro sui risarcimenti. Andiamo adesso a vedere il fatto quotidiano che titola Putin, pace sulla bozza turca, Orban, l'Unione Europea vuole attaccare. E poi Caracchiri Toti, Spinelli chiedeva aiuti, io soldi. Il verbale, il presidente si inguaia ma non c'era correlazione. Ammette i fatti però nega il nesso, vacilla dinanzi alle intercettazioni. E adesso andiamo a vedere il messaggero che titola Meloni Schlein, due Itali e lo scontro sul premierato. Schlein distanza a Trento, Giorgia riforma necessaria, o la va o la spacca. Elli è un attentato alla democrazia, dal lavoro alla sanità, divise su tutto. E poi vediamo Toti, finanziamenti da Spinelli dal 2015 non sono tangenti, tutto regolare, dice Toti. Andiamo a vedere adesso la verità. Casa, ecco chi può assanare e chi no. Decreto approvato in Consiglio dei Ministri. Tutti i parametri per mettere in regola le piccole difformità, come tendoni, finestre, verande, tramezze. Sarà più facile anche il cambio di destinazione ed uso dell'immobile. Costi compresi tra 1.032 euro e 30.987. Salvini, così sblocchiamo il mercato. La consulta Gela, chi affitta stanze ai turisti, oltre i 180 giorni, diventa seconda abitazione. Eredità Agnelli, Gianel Can sarà interrogato in tribunale, mentre PD e Movimento 5 Stelle urlano al condono e poi contestano il redditometro. Sottomessi all'Islam, Dante, espulso da scuola per riguardo verso due alunni musulmani, a Treviso un insegnante tradisce ruolo e civiltà e sostituisce il sommo poeta con Boccaccio. Con questo criterio cretino dovremmo abbattere pure chiese e ospedali. E poi a Toti 167 domande, ma i PM fanno sparire i democratici, eppure a ponte. Salis e forti specchi della sinistra in malafede, il diverso trattamento mediatico, non solo dei due carcerati, scopre gli altarini. Adesso andiamo a vedere il giornale che titola Aule come moschee, allarme intifada, predicatori nelle università. E poi sì al decreto casa, ecco cosa cambia, il manuale degli interventi, Salvini una vera rivoluzione liberale, premierato, Meloni o la spacca. Toti ha chiarito, chiediamo la libertà, i verbali fondi legittimi senza favori. Voi vedete che sul caso Toti i giornali di destra dicono che ha chiarito e i giornali di sinistra dicono che si è fregato da solo e non ha saputo rispondere. Insomma, dicono delle cose diametralmente opposte, quindi vuol dire che uno dei due, o sinistra o destra, stanno mentendo. Andiamo adesso a vedere Libero Quotidiano. Date una motosega a Giorgia, funghi, riso e azoto, le tasse da manicomio. In Italia si paga per tutto, anche per produrre rumore. Ecco le imposte più inutili con un consiglio al governo. È tempo di liberare i cittadini. Palazzo Chigi batte un colpo, sì al piano case, sanzioni fiscali ridotte. E poi Meloni sul premierato, la va o la spacca, nessuno mi chiede a riscaldare la sedia. Meloni al festival dell'economia con le penne, punti in comune. La follia di tenere Toti ancora in arresto, tutti i verbali dell'interrogatorio, ora resta i domiciliari senza motivo. E andiamo a vedere il tempo che titola Versetti satanici, l'islamizzazione dell'Italia, attreviso all'unni musulmani esentati dallo studio di Dante, val di Tara, inammissibile, ora corsi di italiani per stranieri. Meloni o premierato, o la va o la spacca e col fisco amico aiutiamo i cittadini. Schlein, non toccate i poteri del collo e sul redditometro il governo è confuso. Toti passa al contrattacco, Spinelli andava a cena con lo Stato Maggiore del PD. Il governatore rilancia e parla di Comitato Liguria, sistema di imprenditori famelici alla Corte della Politica. L'ultima trovata di Conte, reddito di cittadinanza in Europa. Ma l'aveva già detto da tempo questo. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.